L'evento ABI di quest'anno ha finalmente dato molti spunti sull'ambito liquiditi risk, in particolar modo focalizzando l'attenzione non solo su quelli che sono gli aspetti di governance e di organizzazione per la gestione dei liquiditi risk, ma proprio anche su quelli che sono gli impatti sui sistemi, quindi sui sistemi che dovranno poi gestire questa nuova valutazione. In particolare è emersa quella che è l'esigenza di una maggiore granularità per poter avere un maggior controllo di quelli che sono i comportamenti delle controparti delle banche, in modo tale da poter prevedere quali sono le reazioni di questi controparti di fronte a situazioni di stress del mercato. Ulteriormente si è dato spunto a quella che è un'esigenza degli analisti di poter avere laboratori sofisticati per poter analizzare questi controparti e questi andamenti. E non solo, il fatto di poter avere valutazioni più granulari ma più tempestive per poter permettere al risk management di effettivamente fornire quelle risposte al board in tempo utile per poter prendere scelte decisionali in tempo opportuno. Questi aspetti ulteriormente fanno fronte a quella che è un'ulteriore esigenza di trasparenza, tracciabilità delle analisi, in quanto queste misure sono poi misure segnaletiche che dovranno poi essere riportate a Banca d'Italia e quindi dovranno essere sottoposte a quelli che sono tutti i requisiti di trasparenza e che quindi verranno ad essere richiesti a risk management un pieno possesso di quella che è la caratteristica dei modelli che vogliono andare ad attuare. Bene, questi elementi di fatto saranno la sfida per gli istituti per quest'anno e per il prossimo anno perché facendo leva su quelli che potranno essere sistemi sofisticati in grado di garantire gli aspetti che ho citato porteranno ad avere un effetto, un beneficio in termini di minimizzazione del costo di liquidità e quindi la possibilità di mantenere dei margini più specifici e più orientati all'effettivo rischio a cui si stanno esponendo. Questi credo che siano gli aspetti principali emersi durante questo convegno. Grazie. 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 Grazie.